E come cavolo ci siamo finiti in questo posto, me lo spieghi? Spiegamelo tu, Steph, mi ci hai portato tu! No, non ti ci ho portato! Sì che mi ci hai portato tu! No, mi ci hai portato tu! No, tu! No, tu mi ci hai portato tu! Ciao, Steph! Eh, vedi? Consolini è stata lei! Non è vero! Chi dei due si perde sempre? Tu! Steph, chi si ricorda sempre le strade? Steph, sempre fa tutto giusto, tutti i labirinti, tutte le strade, ricorda sempre tutta memoria, ci siamo persi per colpa tua, quindi come minimo mi devi dire che cavolo ci facciamo in questo posto perché tutto... Eh, però... Non è male! Te l'ho detto, non ne ho la più pallida idea, non lo so perché siamo qui Fede, non è male, ci possiamo sistemare la vita qua, vedo un sacco di diamanti Eh no, certo, certo! Adesso non so quanto si approfonda l'isola, ma a me sembra abbastanza ricca Steph, hai notato una cosa? Non possiamo neanche scappare, c'è proprio... No, Fede, queste sono cose inquietanti che è meglio... Siamo intrappolati qui, Steph! Ecco, Fede, puoi vedere nel paradiso, puoi vedere nell'inferno delle cose Allora, mi è venuta un'idea Ok Piccone, derubiamo tutto e troviamo il modo di andarsene, no? Ma questo è il nostro obiettivo, Steph? Oh, dipende, dipende Come dipende? Nel senso, dipende da quanto diventiamo ricchi Magari ci facciamo la villetta qua, quindi non lo so Dipende, noi parliamo con la gente del posto e vediamo un pochettino Ok Allora, io direi di parlare col sindaco perché di solito il sindaco è la persona più responsabile Saprà qualcosa lui, quindi vediamo un pochettino Oh che spavento! E partiamo male, amico mio Cioè, eravamo qua da due minuti che ti spaventi Benvenuti nella Diamond Island Come siete arrivati in quest'isola dimenticata da tutti? Ciao, non ne abbiamo idea Probabilmente Ferre si è persa come sempre In ogni caso, questo posto sembra bellissimo Pensate di essere in paradiso, vero? Non lo so, io sì Ferre no Ferre non è molto convinta No, sono molto offesa perché tra le opzioni Chiaramente, cioè C'era scritto il fatto che mi sono persa Quindi sono state boicottate da te queste opzioni Perché non è possibile che appaiano questo tipo di risposte Allora, la mob è preparata dall'assistente segreto 2 Io poi ho fatto quella modifica Perché vedi? Vedi che sono boicottati da te Perché lo so che lui non scriverebbe mai queste cose nei miei confronti Noi siamo in paradiso Guarda quanti diamanti ci sono Il sogno di ogni persona Specialmente il mio, quello vero Questo in realtà è un inferno A cosa servono i diamanti quando non c'è il cibo, gli animali e la vegetazione? In effetti hai ragione Possiamo darti una mano Anche se in realtà stiamo soltanto pensando a come scappare noi Non glielo dire Però ti stiamo dando una mano Voglio dovevamo praticamente scappare Spero di sì Il mio amico Carlo è riuscito a recuperare un po' di materiali Ma li custodisce gelosamente Provate a proporgli qualche scambio Sarebbe bellissimo se riusciste a piantare alcuni alberi A riempire l'acqua al fiume e il lago A riportare l'isola con qualche animale Ci proveremo Che faticaccia però Perché ci interessa prendere i diamanti Però noi siamo gli eroi di questo posto Quindi in realtà siamo bellissime persone Fere che fai? Prendo il mio equipaggiamento per ucciderli Stef ovviamente Facciamo fuori il sindaco e conquistiamo l'isola Perché devi far fuori il sindaco? Perché mi hanno rotto le scatole Cioè in ogni posto in cui vado io devo sgobbare Oh siamo in estate Stef al mare si deve andare Porca miseria Eh vacanza Eh va bene Però faccio preparare una mappa nella spiaggia Estiva Sì la mappa è estiva Ok vabbè Cosa vuoi fare? Il barista? Va bene? No non voglio far nulla Voglio prendermi il sole con te che mi servi E che stiamo dicendo I succhi di frutta E tutte queste cose I drink No 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 Non mi sta bene Allora parliamo con Carlo Vediamo un po' come va Ciao come posso aiutarti Mi servirebbe un po' di tuoi materiali Per sistemare quest'isola Non ci penso neanche Assolutamente no Questa è la risposta che dovrebbe fare Se le chiedessi qualcosa Possiamo proporre alcuni scambi interessanti Come questi fantastici diamanti Ma non vedi che sono un minatore? Tutto questo diamante lo posso scavare con il mio pic Ah è vero l'ho perso prima di essere portato su quest'isola Ok vedi abbiamo già un modo Quindi ti interessa fare qualche scambio? Va bene ma solo per questa volta Ok Ok ecco qua ecco qua Allora 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 È un casino Assolutamente sì Noi dobbiamo utilizzare il piccone di ferro Prendere blocchi di diamante Utilizzarli per scambiare con alcune cose per arrivare ad altre Ad esempio un obiettivo ovviamente sarà arrivare agli alberi Sarà arrivare alla terra Sarà arrivare all'acqua Sarà arrivare a tutte queste cose Per rendere di nuovo l'isola abitabile Ovviamente Quindi dobbiamo studiarci un pochettino la situazione Io direi Per adesso iniziamo a picconare un pochettino Ed andare in giro per l'isola Ok Ma queste gemme Ah si prendono sempre con i diamanti Ok Penso proprio che sì Ok Ah ma non è buccato no? Ok meno male ok Tutto a posto Tutto a posto Ci vuole un bel po' perché abbiamo soltanto un piccone di ferro Che non è proprio il massimo Quindi non è per nulla semplice Però dai ce la si cava Perché Fede ogni volta che io rientro in questo gioco C'è di nuovo l'autogamp messo in automatico C'è che problemi hanno? Se io ti metto non lo voglio Perché il giorno dopo me lo riproponi E mi fai magari hai cambiato idea Hai cambiato idea Non cambio idea Fa schifo l'autogamp Magari oggi vuoi questo nuovo nostro bellissimo servizio Che ti permette di soltare un automatico Guarda Stef non devi premere neanche spazio Quindi è una cosa fantastica Secondo me funziona un po' così No non funziona Non funziona Ok Dimmi Qua c'è una caverna misteriosa Con scritto attenzione pericolo di morte Ok Vuoi entrare? Sono già dentro No Via via Sono morta Stef C'era scritto pericolo di morte Ma pensavo fosse un'esagerazione Capisci? Di quelle Porca miseria No torno qua perché c'è lo spawn point È cattivissima sta roba Allora Come ce la gestiamo? Quanti sono? Scusami io non ho ben visto Torno indietro Torno indietro Torno indietro Hanno due spade in diamante a testo Ho visto quello Ok ma riesci? Sì Ok Non ci seguono? Esatto Io li colpisco da qui Guarda una buona tecnica Ok Sì ma c'è del loot lì per terra Lo devono andare a raccogliere Vai Ok Io penso a questo Tu pensi all'altro Fanno malissimo Ho notato Perfetto io l'ho ucciso 20 20 20 20 20 20 20 20 Stef dammi una mano per favore mi uccide Stef Ok Verre sto prendendo il tesoro Ok che cos'è il tesoro? Boh era pieno di gemme Di un pochettino di monete E un po' di ragnatele Io devo assolutamente mangiare Perché ho mezzo cuore di vita Anche io Anche io Ok Ok io alla fine ho raccolto una gemma L'unico mio bottino E quindi possiamo iniziare a prendere qualcosina Aspetta Fere Abbiamo delle gemme Che c'è? Che ti succede? Sono tornati in vita Allontanati va No davvero? Si Oh cavolo Vabbè almeno è un buon modo di formarci le gemme Insomma Ci servono Sono fortini Vabbè ci facciamo la spada in diamante Non è proprio comodo Allora ok Vediamo un pochettino Noi abbiamo ottenuto 25 gemme Ok Con le gemme potremmo comprare ad esempio la carne Se la consumiamo Speriamo di non consumarla Perché vorrei utilizzare altre cose Vorrei prendere altre cose Due bistecche su quattro Potremmo prendere con i blocchi di diamante Due blocchi di terra Ok Ok E con una moneta Cioè scusami Con cinque monete Prendere un albero Ok Ok Ah Che casino Molto Che casino Però In questo modo Noi Potremmo Vieni con me Ok Fare un primo obiettivo Allora spacca tutto il vetro Dove sei? Non ti vado Dove sei finito? Come cavolo fai non vedermi? Per favore Per favore Allora buco qua Noi qua mettiamo Un blocco di terra Che ci siamo presi Assolutamente Mettiamo Un alberello Non appena fare Finisce di spaccare tutto il vetro Cavolo è tantissimo Tanto 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 In questo modo Che stiamo facendo ragazzi? Stiamo andando a piantare Il nostro primo albero Ufficiale nell'isola E quindi a far tornare la vegetazione Che è una delle cose Che ci è stata chiesta Per far tornare quest'isola Un bel posto Quindi diciamo Che è uno dei tanti obiettivi Ovviamente In ogni caso Fere Sai avevo deciso una cosa Di dare alcune informazioni Sull'assistente segreto numero due Ogni volta Ok E una delle domande Che ho più letto Tra i consulini Ok E se l'assistente segreto numero due È italiano o meno Dato che sapevano Che l'assistente segreto numero uno È americano E non è italiano Ok E la risposta è sì È italiano Quindi in questo caso Tutto quello che scrivete nei commenti Lo capisce Lo capisce in italiano È anche un consulino Perché segue comunque i video E quindi è italiano E abbiamo risposto a un'altra domanda Piano piano vi daremo delle informazioni E piano piano scoprirete sempre di più Secondo me è carina come cosa Perché dice che ci inventiamo le cose Raga Non avrebbe senso Vantarsi che facciamo le mappe È più figo di dire che le fa qualcun altro Quindi non ci inventiamo personaggi fantastorici così Quindi non è inventato Fantastiliardici Fantastiliardici Allora Abbiamo un altro blocco di terra 25 gemme 4 monette E 10 ragnatele Però io ho visto Che il segreto d'acqua ad esempio Si compra con le torce E credo che le torce le possiamo tranquillamente prendere da qua Vabbè sì Perché non rubarle sinceramente Nessuno ha messo una regola Nessuno ce lo vieta Nessuno ce lo vieta Ok A parte questi cavolo di maledetti Via 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 Ok Allora in questo modo Andiamo con gli scambi È difficile capire come muoversi eh Infatti sono abbastanza confusa sinceramente Lo so perché sei scarsissima No perché io vorrei solo la spada in diamante Quindi sto pensando solo a quella Allora con 10 ragnatele posso prendere un'altra moneta Perfetto E con questo segreto d'acqua Noi potremmo riempire qualcosa C'è stato chiesto di riempire il fiume prosciugato E mi sa anche il lago Dove è il lago? Non l'ho ancora visto È questo qua a fare È enorme Lago prosciugato Vedi lago prosciugato Quanta acqua ci vuole Però praticamente Noi prima di tutto dobbiamo sistemare il fosso Perché? Perché dobbiamo creare l'acqua infinita Quindi ci serve un altro segreto d'acqua Ok Rendere il fosso misterioso completo E poi iniziare a sfruttare quello Per riempire il fiume e il lago Sì Stef non noti niente? Ah Vedi Ah Vai allora vai a picchiare di nuovo Esatto Ho detto l'unica cosa che so fare è picchiare Quindi vado giù a picchiare i mostri Della serie non capisco gli scambi E almeno do le sferle Allora non mi rendo utile Ok Però so forti uguale Sti maledetti E beh Sono con due spari di diamante Tu ne hai soltanto una Dai non voglio morire Non mi fate morire Ti sto dando una mano Oh Ok Hanno dato anche tante gemme stavolta Ne abbiamo Io ne ho 17 stavolta Quindi non male 49 totali Perché prima non le ho usate Comunque Mi è già tornata a fame di nuovo Pure io È la mia ultima bistecca Davvero? Sì Questo è problematico Assolutamente sì Questo è problematico Ok Allora Ce la stiamo cavando abbastanza bene Allora cosa ci vuole per l'altro secchiello d'acqua? Per rispondere è quella la priorità Teoricamente le torce mi sa Vero? Cosa chiedi? Cosa chiedi? Le torce Ok Ok Allora Sto pensando Ah È tosta sta roba Mamma mia C'è tosta Le torce sotto ce ne sono Mamma mia C'è tosta È un casino Anche perché dove sta Ma io una torcia ce l'ho Mi sono resa conto che una l'ho presa io Ma ne ho una Fere ma allora è risolto Io ne avevo una Ah allora Perché non ci dicevo E non ti ho visto che l'avevi presa Ma neanche io Sto iniziando a pensare Di far crescere il primo albero Distrugge Taglia la legna Creare il carcoval E fare le torce con quello Sì Stef lo so Anche la mia mente Stava viaggiando Lo so lo so No non me ne sono accorta Perché tu le hai tolte Mentre io stavo scendendo a combattere Quindi le ho prese L'ho presa senza volerlo Sei una persona orribile Questo che cos'è secondo te Un'altra piccola piscinetta? Che cosa? Niente Fere buonanotte Ma questa Stef Sogni d'oro Sogni d'oro Ma Stef non è infinita questa fonte Che stai a fa? Perché non è diventata infinita Scusami? Non lo so Con doppia fonte diventa infinita Da che mondo è mondo Quindi per favore Gioco Fammi la fonte infinita di acqua Ecco grazie Perfetto Ecco Hai fatto male Tu l'hai fatta male E mi dai una mano? Allora facciamo che io riempio il fiume E il lago E tu ti metti a fare altro? Dai Così ti metti a scavare Vabbè per un attimino ti do una mano Ok? Ok Anche perché qua stiamo finendo la carne Quindi fra un pochettino ci trocca fare Assolutamente Io l'ho finita Stef Sto per morire di fame Ah di già? Sì Sei già in quella situazione te Sì Bruta situation Allora il fiume qua è tornato vivo Manca soltanto nell'altro pezzo Quindi per fare un recap Abbiamo piantato il primo Ciao Cos'è successo? È cresciuto l'albero Mentre lo dicevo Sto facendo un piccolo recap Ah bello Non l'avevo visto Ok allora lo taglio In modo tale da vedere Che noia Mani nude In modo tale da vedere Se troviamo altri alberelli Per mettere l'altro blocco di terra Che ci siamo già presi Piantare un doppio alberello E iniziare a rendere Una vera e propria foresta L'isola In questo modo Piano piano Faremo tornare Quest'isola A un vero e proprio paradiso Perché nel momento in cui Hai un botto di diamanti Animali Cibo Carne Eccetera eccetera Allora sì che è un paradiso Allora sì che va tutto bene Ok già un primo alberello Quindi fortuna suacciata C'è andata alla grande E vediamo se ci capita Anche il secondo E siamo a posto Visto che ci sono Rompo un po' di foglie Proprio per vedere se capita Mamma mia quanto ci vuole Riempire qua Steph E lo so Enorme Cioè è enorme Il lago Il lago e il fiume Perché si ricongiungono Ah sono uniti Sì sono uniti Ok ok Però anche solo per riempire Tutto il fiume Mamma mia quanto ci vuole Immagino fare Immagino Non mi stupisce proprio per nulla E dai Secondo alberello Su non fare il timido Non rovinarci tutto così Che prima di aspettare di nuovo Quest'albero Rispaccarlo E sperare che a quel punto Ne escano due No? Niente? No Uffa Che sfiga Ah ti conviene fare anche Una crafting table E degli utensili Comunque Per lo meno in legno Per poi Accettare l'albero Perché sennò qua ci metti Sì assolutamente sì Per ora ti sto dando un minimo Una mano con lago Perché così vediamo Dei bei progressi Nell'isola Infatti guardate Laghetino fatto Albero piantato Lì purtroppo Ne possiamo piantare due Il fiume è tornato Abbiamo anche il fosso misterioso E stiamo andando alla grande E poi dipende Il fiume è un po' tortuoso Perché non siamo riusciti Ancora a riempirlo del tutto E quindi vedi le ondicine Però dai ci sta Stare a prendere un po' le scatole No tu stai a prendere le scatole Se le cose le devi fare Ti chiedono aiuto Te devi fare bene Allora Cosa ci voleva Per prendere delle bistecche Già li stai facendo un favore Smetto di ascoltarti Non mi ricordo Lo sai Perché ho tre bollettilita Allora Carlo Ci serve carne Dieci gemme Beh dai vabbè Fede va a bisticciare Se le merita Se di carne Te li ho presi io Poi vediamo Allora L'obiettivo adesso Secondo me Può essere La bone meal Per potenziare subito L'albero Farlo ricomparire Immediatamente Poi con cinque monete Non mi ero reso conto Che ne avevamo cinque giuste giuste Un altro alberello Me lo sono preso Quindi posso già piantare Un altro albero Ok vado a fare l'altro albero Vado 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 Perfetto Così di sicuro Non avremo problemi Se ci serve piccone di diamante Comunque Ah no assolutamente Anzi se lo vogliamo fare Mi metto anche a farlo Poi adesso vediamo un attimino E lì come va? Ti manca molto? Basta F Sarebbe giusto Da continuare a riempire Per fare tutto allo stesso livello Ma per il resto è pieno Ok Cioè tutto molto ondulato Anche il laghetto stesso Però boh direi che comunque basta Dai gli abbiamo fatto anche la fonte infinita Il resto solo possono finire loro Anche secondo me Cioè Cavolo Già stiamo facendo grandi favori Fin troppo gentili qua Quindi che cavolo ce ne frega Ok allora io sto per piantare il secondo albero Ho anche della bumial Per provare a farli crescere entrambi A quel punto avremo Fiume Fosso Lago E alberi E mancherò soltanto gli animali Ok Ok E ti serve carne giusto? L'ho appena comprata Ma te l'avevo presa anche io Vabbè Vabbè dai Pazienza Mi sa che vado a farmare un altro po' di gemme Vai 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 Pestare Non mi uccidano Perché Oddio in effetti Forse ti conosarebbe nello scudo No sai che faccio? Mi metto qua nella scala Allora non mi possono raggiungere E me ne libero di così Due Li faccio fuori subito Gli altri invece poi li farò piano piano Ma sono solo due Che stratega incredibile Sì L'ho detto malissimo Ma si è capito Ero impegnata a combattere Non te lo volevo dire Due secondi dopo mi sono resa conto Ma che accidenti sta Dì Poi vabbè Dai si è capito Nel senso che ne faccio prima due Poi altri due Dai dai ovvio Ok Bon meal Uno Due Tre Ti prego bon meal Cinque dai È andata abbastanza bene Uno Due Tre Olè Doppio albero Doppio albero E l'isola inizia ad essere bella viva Ok Allora quindi Quante gemme hai fatto cara? Eh ne ho fatte 38 Ho preso altro cibo di scorta Ok Adesso che questi stanno tornando in vita Li rifaccio Ok Perfetto Perché penso di iniziare a riuscire a prendere qualche animale Eh sì Voglio prendere un animale È quello che stavo pensando anche io Non manca molto per gli animali Cavolo mi stanno uccidendo sti maledetti Quindi c'è dovresti fare Tutto a posto? Sono troppo forti Ti calmi Per non besticciare con la gente Su Ma facciamo anche un'altra piscinetta C'è come Hanno ucciso Ok Ecco Come facciamo a sistemare questi buchi? Sono brutti Quali? Questi Che creo minando Perché ho bisogno di minare E si formano E con la terra magari Sì Sai quanto costa cara? Cinque blocchi di diamante Ti dà uno di terra Quindi buchi cinque volte tanto Per tappare uno Eh vabbè no Allora non fai Non è un buon sistema Eh non lo so Non abbiamo blocchi di diamante Vabbè stolo ripareranno loro Lo so che non è bello Ma che dobbiamo fare? Ok Allora E fammi vedere un pochettino Quindi io mi compro un po' di gemme Ok E sono a 41 Adesso vado a besticciare anche io Ho visto che ci sono Ok Gli ho appena finiti di nuovo Ok Allora ne ho 64 più 27 Quindi una stack Più altri 27 che mi avanzano Cosa compro? Che animale prendo? Eh boh Vediamo chi c'è Scegli tu Abbiamo le pecorelle Le mucche I maialini E gli squid addirittura Se li vogliamo mettere nell'acqua Ah carino Eh io direi Scelta tua Pecorella? Oh che fortuna ho avuto Mi hanno dato un botto di gemme Vabbè Pecorella o coso? Maialino O maialino Maialino Ecco qua Guardi sindaco Schiatta Specie Quindi due maialini No perché non abbiamo Modo di coltivare Cioè Anzi si in realtà In realtà si In realtà si Però Non abbiamo il grano Per farli accoppiare Ok Quindi inutile Perché saranno loro Steph Ma questi non fanno nulla Ma non dobbiamo farlo Perico in generale Questi secondo me sono un po' Tontazzi Ah ok Ok Allora quanto ho fatto Ne posso prendere due Quasi Quasi Dai 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 Comunque non sono troppo forti Se rimani fermo ad ammazzarli Ne combatti una alla volta E allora riesci a stenderli È il problema quando si arrivano tutti addosso Sì Quello è un bel problema Ok Allora io torno di sopra Sono a due stack Quindi posso prendere due animali Dove l'hai messa Ah eccolo È in giro Sto andando in giro È andato nel pozzo Sì ho visto Magari è convinto Che è il suo nuovo recinto Allora Io prendo Una pecorella E uno di È una cosa È una mucca Vai Così abbiamo tutto Allora Pecorella Mucca Oh Perfetto Ciao belli Come state? Tutto bene? Sì? Non potete neanche cadere Perché siamo noi stessi imprigionanti Nell'isola Quindi Almeno per una volta Non abbiamo grossi problemi Non so se è una buona idea Ma vabbè Scelta sua Vabbè Si voleva lavare un pochettino Come riuscire Quindi allora Loro ci avevano chiesto Di rimettere l'acqua nel fiume Nel lago L'abbiamo fatto Di far tornare gli animali L'abbiamo fatto Di far tornare gli alberi L'abbiamo fatto Direi che abbiamo completato Tutto quello che dovevamo fare Ce l'abbiamo fatta Siamo riusciti a sopravvivere In un'isola Fatta soltanto di diamanti E quindi È fatta a fare Ci fermiamo così Qua sotto compariranno altri video Iscriviti al canale E cliccate la campanellina E ci vediamo in un prossimo video Ciao 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 ciao